Musica Potenta far ragazzi Qua avanti l'ho diventato oggi Sono da solo e sono qui a presentare il mio nuovo video Che ragazzi è un nuovo WagerMatch Perché infatti era un maglietto di tempo che non ve ne portavo uno e ho detto E no, e no, e no Io WagerMatch devo portarglielo Ma di chi? Ma di quale giocatore? Ragazzi, oggi sono qui a presentarvi Ho l'onore di presentarvi il WagerMatch Di Luis Figo Leggenda Pagato la bellezza di 1.510.000 crediti In due partite mi ha fatto due gol e quattro assist E' veramente una bestia Mi piace un macello E io non voglio perderlo Assolutissimamente non voglio perderlo Ma soprattutto voglio sfatare il tabù Che qual è questo tabù? Che praticamente ogni partita che faccio con i primi iscritti In un WagerMatch la perdo Infatti gli ultimi WagerMatch ho vinto erano quelli contro Gabbo Diciamo fortunatamente i più importanti Ma gli altri che ho fatto contro i miei iscritti Li ho sempre persi O quasi Quindi è una cosa abbastanza poco tattica Comunque vi ricordo di passare la prima con i test Se siete introllati Se siete interessati a comprare i crediti di FIFA E ragazzi vi volevo ringraziare Perché non ancora ma manca pochissimo Siamo arrivati a 40.000 iscritti Che è una cosa fuori d'alco E' illegale E' illegale E quindi questo qua non è il video Né di ringraziamento No magari è un po' di ringraziamento Ma non è assolutamente lo speciale dei 40.000 Perché non lo è? Perché ragazzi volevo chiedervi Che video vorreste per lo speciale dei 40.000 iscritti? Scrivetelo in un commento E se potete lasciate già un mi piace Per farmi sentir carico Perché vi dico questo? Ma lo volete sapere? Perché ragazzi se io vincerò questo wager match Pink parlerò a lui sfigo Quindi credo che sia una cosa anche abbastanza tattica Per voi aiutarmi a vincerlo Come dovete far per aiutarmi? Mettete un bel mi piace al video Ora andrò ad invitare il mio sfidante E ci sentiamo tra poco Eccolo E l'abbiamo invitato Ha 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 E' arrivato Speriamo innanzitutto Latenza 1 Minghe Speriamo che lui dia al giocatore Appunto nel caso di sconfitta Perché E questa è la mia più grande paura Comunque andiamo a vedere la squadra E andiamogliela a vedere In palio In un wager match Luis Figo Leggenda Oddio Si è baggata 4-3-3 3 tattico Quello Easy E Minghe William è tuo figo E' dura E' e sarà dura Madonna la difesa Mamma mia Mamma mia Già Andai 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 Già Già No Amico Si 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 E c'è God Non 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 Ma C'è Già Andai 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 di chi abbia segnato, come vedete lagga veramente poco daiee, madonna, madonna dai, 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 tu sei, tu sei, daiee, daiee mamma mia finito primo tempo ragazzi 2 a 0, stiamo andando bene, e comunque volevo dire che se mi sentite, non dico diverso dal solito però parlo un po' meno dal solito è perché sono strateso come vedete, 8 tiri, io 7 in tiri in porta io, 2 tiri, lui in porta lui, e comunque se non parlo tanto è perché sono strateso ma quanto sei bravo ma quanto sei bravo dai, dai, Danny, Danny, Danny Danny, Danny, Danny botta, Danny 3 a 0, quanto è forte al cinquantesimo 3 a 0, buono mamma mia, quanto sono atteso, ragazzi Danny provatelo che è una bomba, ma io l'avevo detto tipo, nel mio primo squad build di tutto questo FIFA, io avevo detto, ragazzi per me Danny è fortissimo e così è stato figo, ci riprova per Danny magistrale questo suo cambio Danny, Danny, Danny no, ma, 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 ma oddio, oddio no bisogna stare attenti ora bisogna stare attenti ora no 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 3 a 1 oh, non molliamo non molliamo è legale, è legale è legale ciao a mattine ma dopo pensavo, speravo mi facciasse figo di testa 4 a 1 che al settantaduesimo lui sfigo di testa buonissimo buonissimo madonna oddio cosa è successo cosa è successo 5 a 1 al settantasettesimo oddio vincere un Wazermash così sarebbe epico sarebbe epicissimo come no finita a 5 al novantesimo 5 a 1 e ragazzi ora bisogna solo sperare una cosa che il nostro avversario ci dia figo speriamo queste qua però ragazzi sono le statistiche 14 tiri io 11 importa io 4 tiri lui 4 importa lui quindi abbiamo abbastanza vinto e Danny è stato il migliore in campo è proprio lui proprio lui ragazzi accettiamo l'offerta di lui sfigo e dovremmo vediamo il doppione che poi ce ne andiamo e poi ovviamente volevo ringraziare o minchia guardi che non è il mio amico che non sia quello contro cui ho appena giocato perché ha avuto l'onestà di darmi figo e ragazzi vi posso assicurare che non è una roba da tutti doppione e quindi ragazzi detto questo spero che il video vi sia piaciuto vi esorto ovviamente a lasciare un bel mi piace un bel commento e ragazzi se arriviamo a 2500 mi piace o domani dopo domani lo pinpalo già perché giovedì ci sarà o la recensione o il pinpale del divino Johnny e quindi dettagli no comunque ragazzi spero che il video vi sia piaciuto vi esorto lasciate un bel mi piace un bel commento arriviamo a 2500 mi piace per il pinpale di questa leggenda e l'altro questo io vi risaluto e vi dico potente a parla e al prossimo video BOLA